Stasera è questo 47, 34, 34, tutte le parti, 84, 34, 47, ok, questo 28 ce lo dà? 28 verso il 9, dai, si gira, quando lo dico al contrario poi lo dico al contrario oggi, 28, quindi mettete anche i vertibili e buttate solo qua qui. Ma come esempio, anche se non giocate, ok? Questa è solo una piccola lezione per iniziare ad entrare nei numeri, stiamo iniziando ad entrarci, poi vi farò vedere io con Fibonacci, con altre cabare, come si ci sientra, ok?